Poi da linea per Eckermann, diagonale stretta dall'americana, da linea a gestire la free ball per Eckermann, grande difesa in posto 6 di Perinelli, poi si addormenta le giocatrici Perinelli e Club Italia, non Eckermann, oro per botte, tatti che non può forzare, la risposta di Eckermann, per Eckermann, parallelo annuncente, poi a tutto braccio Eckermann, la risposta di Eckermann, diagonale stretta, impallinata dei mortoli, la difesa sulla parallela di Dallinia, poi Nicoletti per Eckermann, Mancini va a infrangersi contro il muro di Henry Eckermann, che non abbia tutto il lato per Eckermann, Murata, la palla è ancora viva, Arcangeli e Rattine sono ancora per Eckermann, diagonale verso posto 6, poi Eckermann in pallonetto, Eise per Eli Eckermann, che deve crescere, e c'è l'Eise per Eli Eckermann, vediamo la risposta per Eckermann, che porta a casa un fondamentale Mani Fuori tutti i perinelli, ricezione di sicura, e poi la parallela di Eckermann, devono essere la grande difesa di Arcangeli, poi Dallinia per Eckermann, Mani Fuori attaccare, passa in mezzo al muro l'americana, c'è l'Eichermann ancora Mani Fuori per Eckermann sopra il muro l'americana grazie